BELLA A TUTTI RAZZI E BENVENUTI IN QUESTO NUOVO VIDEO SONO KUNDISPE E COMO AL SOLITO QUESTO OGGI NUOVO VIDEO ALLORA DAI BADO IO BASTA BELLA A TUTTI RAZZI E BENVENUTI IN QUESTO NUOVO VIDEO Oggi sono in compagnia di Tigro che ci farà compagnia per qualche pacchetto per noi perchè questo come appena avete letto dal titolo è un pack opening un pack opening che andrò a fare perchè ci sono dei pacchetti speciali da 50.000 credit dove ci sono 12 giocatori tutti oronari e col culo che abbiamo secondo me troviamo CR7, Robin, Messi, Ibra tutti li troveranno tutti in tre pacchetti li troveremo tutti allora mi avete consigliato di cambiare la lingua quindi ho provato a metterli in inglese sperando ti porti un po' più fortuna di prima perchè come ovviamente avete fortuna a noi dei pacchetti non ne abbiamo allora direi ad aprire subito il primo pacchetto speciale da 50.000 crediti lo facciamo aprire il primo a Tigro che vi saluta ciao facciamo aprire il primo pacchetto a lui alla 50.000 giriamoci giriamoci dai ti prego 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 con 50.000 qualcuno per provare ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego roba godini ma davvero 50.000 crediti per tutta sta merda allora c'è una cosa che non va e metti in italiano e facciamo cagare e mettiamo in inglese e facciamo cagare quindi cosa dobbiamo fare dobbiamo concentrarci dovete concentrarvi anche voi perchè devo trovare pur qualcosa prima o poi qualcuno qua nel frattempo si è impallato un diverso niente devo trovare qualcosa un giocatore che valga almeno 50.000 crediti 1,2,5 dai, 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 dai dai che merda che merda che merda che merda ma che schifo ma non si può non posso essere così sfortunato non posso non posso non posso non posso non posso non posso ma ragazzi ho trovato la nocchia ho trovato la nocchia no la nocchia no jonathan no ma che pacchetto è ma che schifo ma dai ma dai ma dai allora è l'ultimo pacchetto da 100.000 da 50.000 vaffanculo poi vediamo ah no anzi apriamo da qualcuno no fermo apriamo da qualcuno normale per adesso da 7.500 tanto siamo sfortunati in quelli da 50.000 quelli da 7.500 secondo me fanno il boom schippa mamma mia valotti valotti che è un gran talento italiano ma non vale una beata minchia apriamo da l'altro dai guain dai guain dai guain cliccate voi dacca immaginate voi che schifo una forse voi siete più fortunati di me x x si premete si mettete il dito nello schermo fatelo voi vai dai dai non lo schifo non lo schifo ok me l'avete detto non lo schifo vai 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 ottasi ass ma io di niente non sono un 84 83 ma non varranno nulla ma quanto vale casinia ah ah ma 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 5.000 meglio di niente po meglio di niente cioè è spuntato già 100.000 più di 100.000 credete tanto che siete più fortunati di me rifatelo per piacere vai cliccate mettete il dito fai non schifo come prima vai vai lasciamolo qua come prima identico dai dai 83 kagawa ancora no ce l'abbiamo appena preso ma l'abbiamo appena preso ma porca di quella troia ma vaffanculo ma vaffanculo le mani però sono carene tutte verdi ma kagawa ti ho appena trovato ah rifatelo comunque stiamo trovando giocatori abbastanza forti se state trovando io ci trovo un calcio vai ancora bravissimi dai dai ributtiamolo lì dai guai fammi in alto ho 75 Arnold ma che minchia sei porca troia a dire il momento di andare ad aprire il pacchetto l'ultimo la 150.000 fatelo voi fatelo voi se siete più fortunati di me allora tac tac vai bravi bravi dai 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 qua c'è qualcuno c'è CR7 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 no non c'è Hulk Fernandinho c'è il Vague Meniche Boateng c'è anche il Busquets che è l'unico del Barca che ha 85 che non vale un cazzo l'abbiamo trovato noi grandi vi state concentrando insieme a me? concentratevi porca troia concentratevi sono finiti i pacchetti da 50.000 e adesso spacchettiamo un po' i pacchetti da 7500 cliccate insieme a me dai dai Messi dai Messi dai Messi dai uno schifo dai un if un if porca troia se è young non so quanto vale ma un if vediamo quanto vale un if 10.000 credit abbiamo trovato poi il fortissimo Ardidas Novikovas un giocatore strafamoso se non sbaglio dovrebbe avere tra i 12 e 13 anni e non varrà niente anche se è un argento 150 500 bene abbiamo trovato però un if dei young oh ragazzi ma siete strafortunati continuate vai vai cliccate cliccate vai 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 fai Alaba 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 periccate dai adesso col dito tutti ola dagli Higuain dagli Higuain dagli Higuain dagli Higuain 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 piti cosa vai tu allora continuate a spacchettare al mio posto allora gol pack perfetto dai e mi raccomando cliccate dito sullo schermo tacca porca troia vai 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 è fortunatissimo è fortunatissimo dai 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 ma non lo apre neanche è talmente fortunato che neanche lo ha ma vaffanculo ragazzi è andata male lo apro io dai dai questo qua lo apro io vediamo se sono fortunato dai 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 81 WorldCot tanta merda allora riaprite un pacchetto voi per piacere cliccate sulla X vamos dai mi che siete più fortunati di me vacca troia vai 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 vaffanculo ma è il mio ma più vecchio di mio nonno allora mancano pochi pacchetti tant'ultimo pacchetto però ho finito anche i crediti taglie 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 skip ma vaffanculo ho trovato il giro doppione ma vaffanculo ma chi sei ragazzi lo vedo per lì voi mancano pochi pacchetti da fine taglie taglie eh carichi 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 ma cos'è ma prima andava da dio adesso va del merda è giusto è giusto ooooooo 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 ooo 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 che schifo ooo 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 2.000 2.000 dopo che ho sputtato l'ira di dio 2.000 crediti ma vaffanculo e l'ho trovato comunque con i the young ma che schifo allora ragazzi anche questo pacco opening finito io come al solito vi chiedo di lasciare un bel pollicello in su lasciate un bel commento se volete altri pacco opening soprattutto vediamo di raggiungere almeno gli 800 like per un nuovo pacco opening quindi se vi siete divertiti fatelo sapere e come al solito se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale condividete il bilan se vi siete interessati passatevi al link sotto in descrizione noi ci vediamo domani con il prossimo video bellaoooo amo il pacco opening e sono strafortunato